buongiorno a tutti oggi trovo qua nel mio impianto di biogas che è andato in funzione è stato fatto il parallelo la prima volta il 17 di novembre quindi tra quattro giorni saranno sei mesi e mi trovo qui con luca che è un tecnico della ab service che stanno facendo una manutenzione appunto al motore che vedete alle mie spalle adesso essendo io particolarmente ignorante della parte di motoristica chiederò a lui precisamente che cosa stanno facendo luca cosa state facendo oggi allora stiamo facendo una manutenzione completa la facciamo ogni circa 2000 ore regoliamo le valvole del motore cambiamo i vari filtri filtri dell'aria filtri dell'olio regoliamo le candele e poi facciamo un controllo generale al motore che tutto vada bene quindi cosiddetto cambio delle candele quello che noi volgarmente chiamiamo il cambio delle cambio candele regolazione valvole quindi c'è qua una squadra di ab di orzinuovi di tre persone tre tecnici con due con due pulmini sembra la squadra sembra si è sai però cioè le candele vengono sostituite proprio in questo caso le regoliamo le puliamo praticamente durano circa un anno quattro mila ore le candele ah ok le regoliamo controlliamo che vadano bene se sono rovinate le sospituiamo se no le prepariamo per la prossima manutenzione abbiamo due giri di candele per quante ore ha sui poi precisamente oggi il motore? il motore ha circa 4000 ore o qualcosa di più per cui è la seconda manutenzione già infatti la seconda volta che venite vi prende più o meno quanto tempo questa manutenzione circa tutta mattina accenderemo verso il mezzogiorno più o meno se tutto va bene entro mezzogiorno accendiamo infatti ho calato un po l'immissione di liquame e di matrici proprio perché in questo momento non andando il motore c'ho le cupole strapiene e volevo chiederti un'altra cosa un particolare di questo periodo è il problema del polline dei piumini dei pioppi nella nostra zona in particolare quindi oggi farete una modifica se non ho capito male allora oggi montiamo le zanzariere così i piumini si formano si bloccano diciamo le zanzariere non vanno intasare le celle filtranti del motore comunque in questo periodo noi l'abbiamo sempre anche i dissipatori le celle filtranti diciamo tutta la parte dove aspira aria tiriamo via lo strato di piumini che si formano io in questo questi sei mesi sostanzialmente al motore tranne qualche telefonata che ti ho fatto per capire un po magari qualche piccola allarme non bloccante che usciva temperatura massima di qua o cose di là non ho fatto niente c'è qualche suggerimento che tu ti senti di dare di darmi per esempio o semplicemente non disturbate il conducente e lasciateci lavorare no no come come fatto adesso se c'è qualche allarme qualcosa che non capisci mi chiami soprattutto in questo periodo dei piumini e che inizierà il caldo controllare magari i dissipatori che siano puliti che disipino bene l'acqua perché tu l'estate non usando l'acqua calda il motore deve disiparla in aria perché diciamo che la biologia ce l'avrei già caldo così nel mio caso e nel mio nel mio registro c'era la obbligatorietà di utilizzare parte dell'acqua calda infatti abbiamo fatto quel quel collegamento che può forse potete vedere qua alle mie spalle anche se un po in lontananza che va verso le le stalle per poter utilizzare l'acqua calda chiaro è che nel periodo invernale l'acqua calda viene utilizzata completamente anche perché sia le stalle sia i fermentatori hanno più bisogno di calore a mano a mano che andremo verso la stagione estiva si fa un pochino più fatica ad utilizzarla i digestori ne utilizzano meno e quindi i dissipatori che sono se non dico una cazzata dei dei radiatori sostanzialmente raffreddano in quel caso lì in quel caso lì quindi tenere pulite le griglie di solito d'estate il problema maggiormente è quello tenerlo pulito oggi fate anche il cambio olio no l'olio abbiamo fatto un'analisi vanno bene e quindi duri altre 2000 ore perché noi abbiamo all'interno del del service con ab sia la fornitura nel mio caso si può comprare a parte ma io anche dentro la fornitura dell'olio però lo cambiano nel momento in cui c'è bisogno adesso quante quante ore ha già fatto quell'olio lì 2000 ore che non sono poche tra l'altro allora ogni 500 ore noi facciamo il campione dell'olio lo facciamo analizzare se va bene andiamo avanti se non va bene lo cambiamo l'olio dipende molto la quantità del gas in questo caso tu hai anche l'h2s molto basso e quindi riesce a fare di più probabilmente in questo caso l'olio lo cambieremo fra 2000 ora la prossima mutazione ma se fa 4000 ore un record con quasi o ci andiamo vicino ci proviamo meglio meglio così meno si ferma il motore meno ore sta fermo in un anno e meglio è perché questi motori sono fatti per andare h24 ci sono 8760 ore in un anno e tu più ti avvicini a quel risultato che vabbè 8760 è impossibile appunto perché ci sono delle manutenzioni programmate ogni 2000 ore deve star fermo 3 4 ore poi loro io gli sprono come se fossero meccanici della ferrari al pit stop gli dico fate il prima possibile fate il prima possibile però vabbè non è a quell'ora che ti fa la guerra l'importante è fare le cose bene mi sembra che che le stiano facendo ti ringrazio ti ringrazio molto per averci dato questa spiegazione buon lavoro grazie